Nel salotto letterario di Casa Sanremo Writers è il nostro ospite d'eccezione Lino Guanciale. Il testimonial della lettura di Casa Sanremo Writers, un progetto portato avanti per un anno intero per avvicinare i ragazzi e le ragazze alla lettura. Oggi lo abbiamo qui per presentare il suo libro, Inchiostro, edito dalla Round Robin. Un libro davvero affascinante, intrigante e oserei dire stupendo, nel senso di riuscire a stupire chi lo legge. Sono solo tre questi dei tanti aggettivi laudativi che si potrebbero definire per raccontare, appunto, Inchiostro. Un romanzo d'esordio di Lino Guanciale che narra una storia particolare. Parte da un dettaglio strano e inspiegabile il fatto che la protagonista, Rosaura, scopre che uno dei suoi 14 tatuaggi si trova spostato dal fianco destro del suo corpo al polso. E da questo inizia la ribellione dei tatuaggi che si muovono dalla loro posizione e la guidano in un itinerario visionario, direi dire quasi ipnotico, che la porta al tempo stesso in una sorta di discesa agli inferi, ma una risalita ancora più importante per cercare la sua strada, la nostra strada, l'identità da scoprire e da rivelarci. Io non mi voglio dilungare perché finalmente abbiamo qui Lino che può rispondere alle nostre domande. Queste domande sono il frutto di una settimana intensa di lettura insieme ai giovani che sono stati ospiti nel nostro salotto. Abbiamo letto in condivisione alcune pagine di questo romanzo e abbiamo scelto alcune delle domande che hanno studiato e pensato nei momenti di pausa tra le nostre presentazioni. Allora, Lino, benvenuto innanzitutto qui. Grazie, Viridiana, è un piacere essere qui con voi. Sono pronto a rispondere a questo fuoco di fila di domande. Sì, allora, visto che siamo a Sanremo, ovviamente una delle domande che subito è venuta in mente è quella con il legame con il mare. Nel tuo romanzo, che ha delle splendide illustrazioni di Daniela Volpari, bellissime, che danno il tocco appunto di visione creativa all'opera, c'è richiamato il tema dell'onda presente in una famosa psicolografia di Okusai. È citata anche nel romanzo. Quindi il legame e il significato del mare nel tuo libro? L'acqua nei sogni significa molte cose. Chi un po' si è addentrato nel difficile campo dell'interpretazione dell'universo onirico, insomma, lo sa. L'acqua ha molto a che vedere con come ci percepiamo in rapporto alla stabilità o meno della nostra identità, della nostra percezione nel mondo, eccetera. Ha molto a che vedere con il cambiamento. Quindi in questo racconto che funziona, o almeno volevo che funzionasse come un sogno, con la stessa struttura dei sogni, l'acqua non poteva che avere una parte fondamentale. È un po' l'orizzonte di Rosaura nel suo cammino ed è lo sfondo e non soltanto, il motore in qualche modo del cambiamento che già si è avviato dentro di lei. La nostra protagonista nel corso del libro incontra una serie di personaggi, ognuno diverso, ognuno con un simbolismo anche particolare. Ai nostri lettori è incuriosito molto la figura del nipotino. Ci chiedevano se ci fosse all'interno di questa figura un po' di te, quindi un'identificazione con l'autore, quindi con te, una sorta di fanciullino pascoliano, o se c'è qualche altro riferimento concreto, pratico, che ci puoi dare per raccontarci di più di questa figura molto particolare all'interno del libro. Sì, uno delle tante, insomma, delle diverse figure che Rosaura incontra nel suo viaggio è questo piccoletto che si chiama Sigmund, che poi è la contrazione, ed è bufo questo, di Sigismondo. Sigismondo e Rosaura sono i protagonisti dell'opera teatrale che fa un po' da riferimento a questo mio racconto, cioè La vita e il sogno di Calderon della Barca, che poi anche La vita e il suegno è il tatuaggio preferito di Rosaura stessa. È tutto un gioco di specchi e piccoli richiami verso quel grande testo teatrale del Seicento Spagnolo. Lì il protagonista è Sigismondo, e Rosaura in qualche modo è una delle possibili protagoniste di una versione alternativa. L'intento era proprio di, in parte, scrivere una versione alternativa, in cui Rosaura è la protagonista nel mio inchiostro. Però Sigismondo è fondamentale, è fondamentale perché è il portatore, è un po' il nocchiero. Il collegamento proprio. Sì, il collegamento. La prende per mano, a un certo punto la porta dove in qualche modo è giusto che vada. In questo si possono leggere molte cose. Quanto all'essere o meno rispecchiato io stesso in questo personaggio, sì, senz'altro. Poi quello che scopri scrivendo è che in realtà chi scrive sta un po' dentro tutti. Dentro e dietro tutti quanti i personaggi del racconto che ha generato. Quindi in realtà anche, in qualche modo, parafrasando Flaubert, anche Rosaura, se moi, e non soltanto il piccolino. Ma infatti in tutti i dettagli si scorge qualcosa, secondo me, non solo della storia ma anche poi del lettore che si impossessa di questi dettagli e non deve perdere il filo del racconto proprio per razzaporare appieno questa narrazione così intensa. Sì, un po' è quello il gioco. È vero. A pagina 61 e 63, questa è una curiosità. Fantastico addirittura la pagina. Meravigliosa. La compare sette volte la parola ombra. Sì. Vogliamo sapere che cosa significa per te ombra. È un concetto che sembra, fa quasi paura, insomma, invece secondo me nel libro anche è un'accezione positiva. Beh, questa storia è stata definita, insomma, da un'autrice che peraltro stimo moltissimo, che è Sofia Pirandello, una favola psicanalitica. È vero, in qualche modo inchiostro è quello, è pieno di rimandi a quel tipo di linguaggio, di indagine del cuore dell'uomo e della donna. Ombra ha un significato molto preciso a cavallo tra Freud, Hillman, nella riflessione della psicanalisi sia dei primordi che attuale. L'ombra è l'altra parte di noi, è l'altra faccia della luna, non per questo significa che sia quella brutta. Anzi, tra Apollo e Dioniso e ognuno di noi è partecipe dell'una e dell'altra sfera, la luce e la mancanza di luce, le cose migliori spesso le troviamo lì dove la luce non c'è o aspetta soltanto di esserci di nuovo. L'ombra è quella parte di noi con la quale ci ostiniamo magari a non fare conti ma che in realtà poi nel momento in cui dobbiamo cambiare non può che essere il motore del cambiamento stesso. Le energie per riuscire a rivoluzionare le nostre vite partono sempre dall'ombra. Almeno ecco, questo è quello che ritengo io. Sì, anche perché l'ombra secondo me è quella che c'è più vicina e quindi nel libro tu fai notare anche che non bisogna cercare tanto lontano le cose della vita e i valori e le emozioni ma bisogna assaporarle poi nelle cose del quotidiano. Esatto, esatto. Poi insomma, chi è appassionato di letteratura apparentemente dell'infanzia sa quanto si dà di Peter Pan per la mancanza della sua. A un certo punto è proprio qualcosa che devi riabbracciare. Poi ecco, il personaggio protagonista di questa storia me l'ha ispirato mia moglie. Sì. C'è tanto di lei poi tu cominci a scrivere e dentro una figura ci finiscono dentro tante cose però la partenza è stata proprio questo l'incontro con lei e spesso io e lei ci siamo confrontati su quanto sia importante anche in una relazione ad esempio riuscire a fare i conti con la propria ombra e magari anche con quella dell'altro. Sicuramente. ci sono anche infatti un sacco di riferimenti letterari perché è il frutto di un'ottima scrittura creativa però anche di tanta lettura. Sì, a me piace pensare io sono un grande lettore fondamentalmente sono quello a un certo punto i grandi lettori o quelli che sono appassionati di lettura e di scrittura quasi inevitabilmente fanno il giro anche per fare un po' il punto su quello che è il loro stesso amore per la scrittura almeno un'esperienza di attraversamento di che cosa signifi scrivere lo fanno magari lo tengono nel cassetto ma lo fanno è un po' quello che è capitato a me Inchiostro è una piccola cosa scritta da uno che ama moltissimo leggere quindi ci è piovuto dentro tanto di quello che mi è capitato di leggere nella mia vita. Una domanda un po' più tra virgolette difficile il viaggio di Erosaura si rifà più a quello di Joyce cioè al viaggio nell'inconscio o a quello di Dante perché parlando con alcuni ragazzi che appunto sono dei liceali e stavano studiando Dante hanno notato che una delle parole chiave polso è inteso ovviamente non solo come parte del corpo sarebbe stato banale ma proprio come sede parte dell'apparato sanguigno in cui pulsa proprio la nostra vita quindi tutte le emozioni per cui diciamo quale parte ci sono entrambe televisioni c'è qualcosa di qualche riferimento particolare intanto questa me la segno complimenti ai ragazzi abbiamo studiato tanto come sempre poi stupiscono nel momento in cui danno le loro letture ma anche per la competenza con cui le danno una riflessione estremamente interessante anche quest'idea del sangue e del polso come sede del battito vitale in che ostro è un racconto sul corpo su quanto sia fondamentale nella definizione della nostra posizione nel mondo io con la parola identità ho un problema nel senso che è una parola da maneggiare con molta cautela l'identità è un orizzonte mobile è un iceberg inscalfibile è qualche cosa che non deve mutare mai nel tempo è qualche cosa che invece deve evolvere nel tempo si possono avere diverse posizioni a riguardo e a seconda della posizione che hai per esempio ti piace o meno che sbarchino i migranti nei nostri porti cioè da una piccola cosa poi dipende in qualche modo tutto quanto per quello mi piace più pensare alla posizione che si ha nel mondo da questo punto di vista mi interessa molto il rimando per esempio a Dante Dante in qualche modo il frutto più maturo di una straordinaria irripetibile produzione letteraria lo dà nel momento in cui la sua condizione esistenziale è più precaria cioè il Dante esule e poi il Dante che genera la divina la divina commedia e a me ha sempre affascinato questo di lui che ovviamente con la capacità di architettare una struttura mirabile senza eguale forse nella letteratura mondiale abbia messo il proprio viaggio il proprio sprofondare all'interno di una dimensione di totale sperdimento dentro quella quella opera per l'appunto senza eguale in qualche modo quello credo che non riguardi soltanto inchiostro quello riguarda qualunque italiano cioè il nostro imprinting letterario è il racconto della discesa all'inferno di un uomo che ha perso tutto la nostra lingua viene da lì la nostra lingua è una lingua da rifugiato è una lingua da esule è una lingua da sperduto il nostro più grande autore che è uno dei più grandi autori di ogni tempo dell'alteratura mondiale era uno senza una casa e tu tutto questo sperdimento lo trovi nella scrittura quindi credo che chiunque maneggi l'italiano un po' con questo si vada a confrontare anche perché ci sono tutta una serie di simbolismi anche proprio di metafore antropomorfiche nel tuo libro che sono da assaporare veramente passo passo con la scelta con la scelta delle parole anche non semplici e ovviamente messe lì non a caso allora un'altra domanda per la trama e la scrittura ti sei ispirato al linguaggio teatrale ovviamente nasci dal teatro hai scritto tanto di teatro sì indubbiamente sì poi volevo una scrittura che fosse la più icastica possibile cioè che parlasse molto per immagini mi piaceva l'idea che le frasi fossero secche che il ritmo fosse molto serrato e che da ogni frase venisse generata un'immagine precisa e diversa poi precisa ognuno ci vede quello che vuole il bello dell'illustrazione di Daniela per esempio è che quando l'ho vista la prima volta ho pensato madonna è bravissima Daniela però non è affatto quello che mi aspettavo non risponde a quello che è la mia visione immediata di quello che ho scritto però poi ho detto no no teniamole proprio per questo queste illustrazioni perché sono la prova che ogni lettore innesca un immaginario diverso su quello che legge e l'inchiostro di Daniela che è meraviglioso è già diverso da quello che avevo immaginato io scrivendo quindi la presenza delle illustrazioni per esempio nel libro serve molto a questo a invitare il lettore stesso la lettrice stessa a fare quello che un po' le parole cercano di suggerire cioè innescare un'immagine via l'altra si pure per questo infatti hai scelto uno stile nominale privo di di predicato tipico insomma della scrittura immersiva che è proprio quello esatto il punto giusto però secondo noi c'è anche un po' di scrittura cinematografica indubbiamente e questo ti riporto un'altra pagina per farti capire quanto ci siamo preparati allora pagina 31 non sono così preparato c'è l'espressione molto bella il film dalla bocca enorme secondo me è proprio un'inquadratura cinematografica ci sono primi pani panoramiche dettagli insomma tipicamente cinematografiche in tre parole quindi si apre un mondo da una singola frase sì indubbiamente poi come dicevo prima quello che vivi finisce in quello che scrivi o provi a scrivere il teatro in primis ma poi anche la scrittura per il set sono una parte integrante in qualche modo del mio modello di comprensione della realtà e nel momento in cui cerco ho cercato insomma di scrivere innescando un immaginario molto serrato molto vivido e vivo senza altro senza che lo volessi ho finito per evocare un sistema di montaggio di immagini d'altra parte questo per esempio lo insegnano già per esempio nei sette a Tebbe di Eschilo che è uno dei più antichi testi teatrali che ci sono arrivati c'è una sequenza molto bella di avvicinamento dei sette alle porte di Tebbe che alterna proprio un campo largo dagli assalitori un campo largo dagli assaliti e poi un gioco di stretti e larghi in alternato tra i due punti di vista il cinema nasce dalla scrittura tu sei anche un ottimo regista quindi hai condensato in questo libro un po' delle tue passioni però visto che siamo a Sanremo una domanda sulla musica ci vuole anche perché sei molto bravo a cantare ti abbiamo applaudito anche a te durante le tue performance canore quindi se dovessi scegliere una canzone che secondo te un po' rappresenta in chiostro e credo quella di ne stavo per dire una immediata allora quella secondo me che ti viene di impatto con la pesce di Martino splash bene abbiamo parlato tanto dell'acqua eccetera e poi non so se sia intenzionale perché non ho letto interviste agli autori io l'ho solo ascoltata ma c'è un bellissimo gioco letterario di ribaltamento di un verso di Dino Campada dentro fabbricare 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 preferisco il rumore del mare e loro fanno l'inverso preferisco il rumore della metro affollata a quello del mare è bellissimo che la canzone pop viva di riferimenti non so quanto intenzionali ma se non è intenzionale è meglio ancora a quella che è la letteratura più corta esatto allora e invece poiché sappiamo che ti piacciono molto i dolci a tutti noi allora un dolce che possa rappresentare questo libro che è dolce amaro al tempo stesso quando leggi questo libro è come se bevi in un sorso solo il calice appunto dolce amaro delle passioni però noi oggi ci concentriamo solo sul dolce quindi un dolce che lo possa rappresentare un dolce che rappresenta inchiostro ma mi viene da dirti una coppa di gelato al cioccolato purissima senza latte sai quei bei cioccolato fondente ovviamente perché esiste solo il cioccolato fondente pure per me in cui fare splash cioè ecco se dovessi definire un ecco magari il mare di inchiostro potrebbe essere se dovessi riscrivere inchiostro forse lo scriverei così un mare di cioccolato un mare di cioccolato amaro vabbè allora per il secondo libro ci mettiamo il mare di cioccolato partiremo da lì allora visto che abbiamo iniziato con questo io direi di finire proprio con l'incipit perché questo libro secondo me è un libro che si inizia e si finisce al tempo stesso all'infinito cioè nel senso si può leggere e rileggere e si scorgono sempre nuovi dettagli io però vorrei ce le leggessi tu questo inizio qualche frase ovviamente ti do la mia copia sì poi buffo perché io non mi sono mai imbarazzato a leggere cose in pubblico ci mancherebbe pure perché però le proprie ovviamente sempre terrorizzato quando vado in scena ma tutto sommato dice vabbè lo faccio per lavoro ma leggere quello che ho scritto io è un tosta questo è il prologo e si intitola prologo fa una grinza fin qui vado bene sera solito bar soliti colleghi solita stanchezza solito senso di inutilità toccherà ancora una volta a gin tonic e negroni sparsi staccare la spina alla nevrosi quotidiana l'ecco di una battuta divertente le punge la nuca lei ride scuote la testa e alza il bicchiere come per brindare a quello scampolo di leggerezza la mano si ferma a mezz'aria rosaura sbianca dal polsino dell'elegante camicia bianca che porta sotto la giacca sbucano due parole es sueño e che diavolo ci fanno lì? pose il bicchiere confusa ho già bevuto così tanto pensa si guarda intorno tutto normale chiude gli occhi sfrega le mani sui pantaloni per resettare i pensieri alza il braccio destro e solleva lentamente la manica della camicia e le parole ora sono quattro la vida es sueño a punta fine fra polso e avambraccio tatuaggio ben fatto non c'è dubbio ma quella mattina dopo la doccia era ancora al suo posto fianco sinistro quasi sulle ultime costole teso leggermente verso la schiena non sa cosa pensare la testa è in acqua giornata impegnativa troppo respira di nuovo stanchezza gin aria di chiuso un piccolo sbandamento ci può stare quelle parole sono solo nella sua testa non c'è dubbio ho solo voglia di un altro tatuaggio ragiona tutto qui il polso è un punto ideale e ci ho proiettato sopra il mio preferito eh la testa fa brutti scherzi a volte ci penserò domani si dice mentre porta un'ultima volta il bicchiere alle labbra prende le sue cose saluta gli altri e se ne va già non pensa più a quello che a questo punto non è più convinta di aver visto l'aria fredda rimette al mondo una bella dormita farà il resto grazie a Lino Guanciale grazie soprattutto per essere diventato il testimone della lettura di casa Sanremo quello è un piacere davvero grazie a voi abbiamo scelto una frase per sancire insomma questa tua collaborazione con i ragazzi e le ragazze di casa Sanremo secondo Voltaire la scrittura è la pittura della voce e secondo noi nella voce di Lino c'è la profondità di chi sa parlare al cuore della gente con attenzione con passione e con umiltà grazie mille Lino grazie a voi grazie davvero grazie a voi